o buongiorno a tutti sei e mezza di mattina e si pedala un po sui rulli perché sei e mezza uscire adesso è un po freschino quindi pedalata digiuno che è il massimo per mettere sul fisico anche perché oltre a passare le varie città da nord a sud bisogna anche essere un po carino un po veloci quindi via la pancetta muscolo cambetta sorriso dinamo camp ok e via ok solo per così no su quello che si fa quando ci si alza la mattina ormai tutto incentrato di sopra adesso vi lascio brevissimo era questo perché fra un po mi viene il fiatone non mi piace ok ciao